Possiamo andare dai No Amo nenne picciotti Eh lo so Devi premere questo tasto qui Devi cliccare sul joystick di questo tasto qui Eccomi Sono di nuovo online Sto cazzo No no arrivano Tornano indietro 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 No Dietro, dietro Che cosa? Se finite le munizioni Dovete premere sul cosoli Sulla cassa Ok Qui bisogna Prendere su Queste robe rosse Ok Occhio eh Che arrivano Arrivano, arrivano Occhio Ok Andiamo di qua Di qua Porca puttana Quello grosso Mi ha preso No Mi ha frizzato Mi ha frizzato Ecco Occhio un altro Dio boy Bastardo Che cazzo È esploso Mi sente qualcuno? Oh Ok C'è proprio un cazzo Avete preso tutto? Niente di che Ah le munizioni Aspetta Niente Bisogna andare sulle scale Su nelle scale Su nelle scale In teoria si Tutti qua Aiuto 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 Zombie di merda Ah Bastardo E che stavi Cagando Ok Ci siete? Ci siete? Pronto? Ok Andiamo Andiamo Sono qui Oh Qui basta Aggrapparsi Dio 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 Marko Ok Ok Occhio qui che spuntano fuori Occhio Qualcuno venga qui Qualcuno venga qui Dove cazzo sei Apri Raccogli quella roba lì Eh Pensavo che venissero fuori Perché di solito venivano fuori Niente Andiamo di qua Che cos'è Che cos'è Mettilo qui Guarda Mettilo qui Oh Aspetta Qui devi metterlo Sul polso Sul polso Hai capito Lo devi mettere nel polso Sì Sì Occhio Oh Cazzo E quanti cazzo Ok C'è una C'è una Eh Io vado Sparisco Le luce Sono soldi Mi sa tanto Sono dei crediti Non so Serviranno a qualche cosa Allora io c'ho un candelotto In mano Andiamo Esatto E l'ho già usato Ok Munizioni Conviene Conviene Eh conviene Prenderli Però l'ho già usato Io Che cazzo Eh Idem Eh No Non puoi No 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 Eh mi sa che qui Arrivano Dappertutto È strana Sta cosa Dovevano Arrivare Tanti Non arriva Nessuno Non arriva Dai Face Scanner Eh Ci sono Di nuovo Aiuto Ho sbagliato Devo Devo aver Devo aver Il candelotto Lì Non lo so Il candelotto L'ho tirato Eh ma è innescato Oddio Dio 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 Caro E io non ho più vita Non ho Non ho più vita Sì ma Cazzo Fammela Dio Boh Non sai neanche usare Un cazzo Booster Vai Ci siamo Uh Vai Ci siamo Occhio A non sparare Quelle robe Lì Occhio Di nuovo Quello grosso Occhio Ma mi sa tanto Che non ci passa Dalla porta Occhio dove cazzo sono il floppy mettitelo salvalo nel polso devi ficcarlo nel polso no esplode questo porca troia oh sei ancora lì? oh la vai andiamo 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 ok occhio e vaffanculo c'è un candelotto se volete però non buttatelo e anch'io c'è un floppy a posto oh ci muoviamo? oh muoversi no c'è di nuovo la dinamite vai via ancora con la dinamite? che giocate? oh ci siete? eh tanto bisogna andare da tutte e due le parti cazzo che cazzo fai? chiudi la porta? che la fai Nicola? schiudi la porta? lasciati lì eh no devi andare a vedere se c'è qualche cosa no? ho già visto che non c'è un cazzo non c'è niente ah forse qui erano stifroci a incularsi no? no niente vai addirittura addirittura allora qui dobbiamo inserire i floppy disk si prende fino alla fine guarda lui mi dice raccogli i floppy disk riuscita sopravvivi fino alla fine per ricevere la ricompensa ok? quindi alla fine forse eh non manca tanto una bomba meglio lasciarla stare carica per il tuo dispositivo da polso cazzo è sta roba ok 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 ci siamo andiamo andiamo ehm si andiamo di qua ok ok bisogna andare lì in mezzo venite venite qui occhio 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 che arrivano eh sia di qua che di là si che di là Ok, munizioni Perché arrivano Ok Ci siete? Lì sopra Adesso dovrebbe abbassarsi questa Però spuntano di nuovo loro Spuntano di nuovo, attenti Marto dio Proprio da dove ci sono le munizioni Qui è? Ok, ok, andiamo, andiamo Eh, siamo Siamo alla fine, eh, qui, eh Ah, di nuovo Aspetta Occhio anche dietro Chi è morto? Occhio Munizioni Ti devi fare una pera Ci siete? Si dovrebbe aprire? Perché non si apre? Perché non si apre? Ah, ecco Ok, andiamo Siamo alla fine, eh, adesso Cerchiamo di sopravvivere Ok Aspetta, aspetta Praticamente adesso bisogna Andare lì in mezzo Roby Bisogna andare lì in mezzo Non è una cura da farti, no? Eh Ecco, fatela Che culo Eh, prendila Prendila Mi sa che non c'è nient'altro Comunque Lì non l'ho mai visto lì Eh, quando si scende Bisogna andare tutti quanti Lì in mezzo E far partire la cosa Ok Andiamo Qui sopra Quando siete pronti Quando siete pronti Andiamo Eh Qui arrivano dappertutto, eh Arco Due Cazzo 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 Occhio Dov'è quello grosso? Porco L'ho visto, l'ho visto È vicino a qualcuno No No Aiuto Occhio 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 Dov'è quello grosso Dove Sparare al ghiaccio Sparare al ghiaccio Sparare alla palla Che ha di ghiaccio Aia Occhio Ma vuole crepare Sto stronzo No No Devi sparare alle cose Allora Alle cassette Per le ammo Alle cassette Eccolo qua Ecco Ce lo inculiamo E vai Ok Andiamo Ok Fantastic work Fantastic work Hai vinto Ok Adesso ti fa vedere il punteggio Difficoltà veterano Eh si Ha aumentato un pochettino Ce l'abbiamo fatta Hai visto però Allora Floppy disk Un cazzo Testato Una granata elettromagnetica Che esploda All'impatto Oh mio Con le granate Non è che sono proprio Ok Ok Minchia Precisione Un cazzo Ci siete? Ragazzi Ci siete? Ok Uh Pronto Ah ecco Pagli Grazie a tutti